Ragazzi voglio farvi vedere questo video di Francesco Piofolo che ha rotto con Drusilla Gucci A quanto pare uscirà qualcosa di grosso perché lui ha scritto Ovviamente è palese che è riferimento suo Non ti copro più Ragazzi iscrivetevi nel canale perché guardate tutti il mio canale Ma non siete ancora iscritti Fatelo, è una cosa importante per me ma anche per voi Più la community cresce più usciranno video di grande qualità Grazie